Siamo al confine di Fernetti, questa mattina attorno alle 10.40 si era diffusa la notizia che il confine fosse stato chiuso. In realtà è l'autostrada in direzione lubiana all'altezza di Postumia dove evidentemente la nevicata di oggi ha provocato dei problemi ad essere chiusa, quindi da Postumia in poi nella parte montana dell'autostrada slovena che conduce verso lubiana. Vedete le macchine che si approcciano al confine quindi sostanzialmente si possono fare solo pochi chilometri con la vignetta oltre la zona di Fernetti. I fiocchi sono veramente grossi, importanti, sembra una nevicata da pieno inverno invece siamo ormai dopo Pasqua. Per farvi vedere uno scenario che è veramente montano, guardate gli alberi, la parte non battuta e battuta dalla Bora, è bianco a metà, lo vedete diviso in due, sembra un biscotto Ringo quasi, da una parte c'è la neve, dall'altra parte no. Una nevicata molto fitta, molto intensa, raffiche di Bora che hanno toccato gli 84 km orari in raffica sulla città di Trieste, è stata sospesa anche l'operatività del Delfino Verde, il collegamento marittimo del Golfo di Trieste e vedete anche qui quanta neve si è accumulata veramente in poche poche ore in questa giornata di aprile in cui sembra essere ritornato l'inverno.